Siamo con Valerio Greco, lei si tuffa nella laguna di Venezia e salva una bambina dall'annegamento. Si ritrova nella parte dell'eroe che le ha ritagliato la stampa? No, insomma, proprio eroe, io non mi ci sento, insomma, ho fatto un gesto che secondo me in quel momento mi è risultato istintivo e non mi considero un eroe, ecco, però l'ho fatto, cioè, sicuramente è una cosa che mi ha riempito dentro e che è un ricordo bellissimo, tanto più perché si è verificata nel decimo anno del nostro anniversario, il matrimonio. Ci racconti quei momenti, il suo è stato un gesto d'impulso? È stato un gesto puramente sì, d'impulso, istintivo, come accennava dal sindaco, io nel momento in cui abbiamo sentito queste urla con mia moglie, io mi sono girato, mi sono alzato, ho visto qualcuno in acqua e mi sono tuffato, esattamente così come stavo, vestito e, anzi, dopo, mi sono anche reso conto quando sono uscito dall'acqua, quando la vicenda era andata un po' avanti, quando la bimba era in mano ai genitori, mi sono reso conto che avevo addirittura gli occhiali addosso, che io sono, per esempio, una cosa che normalmente levo per fare qualunque altra cosa, insomma, ecco. Per cui quello mi ha dato proprio l'idea del fatto che fosse completamente istintivo il gesto. È sorpreso per il riconoscimento che il sindaco Alemanno ha deciso di tributarle? E cosa significa per lei? Mi ha colpito, mi ha colpito sicuramente quando il sindaco mi ha contattato e mi ha onorato veramente. È una bella gratifica e ne sono felicissimo. Sì, sono anche un po' sorpreso, ma non del fatto che il sindaco mi abbia chiamato, ma del fatto che forse penso che questo è un gesto che, insomma, se capitasse anche ad altri dovrebbe essere forse naturale.